La casa torna ad essere un bene primario ed un investimento prezioso per gli italiani che nell'anno 2021 fanno segnare un più 44% rispetto all'anno precedente riguardo all'accesso a mutui prima casa. Secondo l'osservatorio mutui online.it, trainante è stata la norma sui mutui giovani con le agevolazioni per l'acquisto della prima casa contenuta nel decreto sostegnibis di giugno 2021, confermata la crescita esponenziale dei mutui acquisto prima casa anche sulle erogazioni, più 38% rispetto all'anno scorso.